Le parole di Plinio il Giovane che descrive l'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. sono forse l'inizio della storia della vulcanologia. Si tratta della prima testimonianza diretta e scritta che descrive un'eruzione vulcanica esplosiva. Sono passati molti anni dall'eruzione quando Plinio il Giovane scrive a Tacito per raccontare della morte dello zio, Plinio il Vecchio, ma il racconto rimane nitido e preciso. La testimonianza è talmente evocativa da lasciare tracce nella nomenclatura scientifica internazionale che oggi chiama Pliniane, quelle eruzioni particolarmente violente che sono in grado di sollevare la colonna eruttiva fino a oltre 10 chilometri di altezza e che poi si allarga in cielo come la chioma maestosa di un pino marittimo. Oggi sappiamo che nel corso dell'eruzione, durata circa 20 ore, la colonna eruttiva nel 79 d.C. ha raggiunto prima i 14 chilometri e poi si è sollevata fino a 32. Nell'arco delle 20 ore è stato eruttato un volume di 4 chilometri cubi di magma frammentato dalle esplosioni in pomici e lapilli. Questo materiale, sollevato a grandi altezze dalla colonna eruttiva, viene sospinto dai venti e va a ricadere su una vastissima area a sud-est del vulcano. Il racconto di Plinio il Giovane descrive con molta efficacia la caduta di questa cenere così fitta da oscurare la luce del giorno. Mentre Plinio il vecchio si trova a Stabia, Pompei e Oplonti sono ricoperti da circa 3 metri di ceneri. Il peso di questo materiale è sufficiente a causare il crollo di molti tetti delle case e causare così le prime vittime. Il maggiore disastro è dovuto al passaggio dei flussi piroclastici. Queste miscele incandescenti di gas e ceneri si formano quando il materiale eruttato è troppo pesante per essere sollevato in cielo nella colonna eruttiva e ricade lungo i fianchi del vulcano portando con sé tutto quello che incontra. Ercolano risparmiata dalla caduta delle ceneri è distrutta dal passaggio dei flussi insieme ai suoi abitanti e anche Pompei viene invasa dai flussi che non lasciano scampo ai pochi superstiti ritornati in città sopra al mantello di pomici bianche. L'eruzione non tocca soltanto la città e le persone ma modifica proprio il territorio. La linea di costa sarà spostata di centinaia di metri e il livello del suolo sarà più alto di 10-20 metri rispetto a prima dell'eruzione. Caro Tacito mi chiedi di narrarti la morte di mio zio per poterla tramandare ai posteri con maggiore esattezza. Te ne sono grato giacché prevedo che la sua fine se narrata da te è destinata a gloria non peritura. Benché infatti egli sia perito in mezzo alla devastazione di bellissime contrade assieme a intere popolazioni e città in una memorabile circostanza quasi per sopravvivere sempre nella memoria. E benché egli stesso abbia composto molte e durevoli opere tuttavia alla durata della sua fama molto aggiungerà l'immortalità dei tuoi scritti. Ben io stimo fortunati coloro ai quali perdono divino è dato o di fare cose degne di essere narrate o di scriverne degne di essere lette. fortunatissimi poi coloro ai quali è concesso l'uno e l'altro. Fra costoro sarà mio zio in grazie delle sue opere e delle tue. Perciò tanto più volentieri imprendo a compiere ciò che desideri anzi lo chiedo come un favore. Egli era a Miseno e comandava la flotta in persona. Il nono giorno prima delle calende di settembre verso l'ora settima mia madre lo avverte che si scorge una nube insolita per vastità e per aspetto. Egli dopo aver preso un bagno di sole e poi d'acqua fredda aveva fatto uno spuntino giacendo e stava studiando. Chiese le calzature e salì a un luogo dal quale si poteva vedere bene quel fenomeno. Una nube si formava. A coloro che la guardavano così da lontano non appariva bene da quale monte avesse origine. Si seppe poi dal Vesuvio il cui aspetto e la cui forma nessun albero avrebbe meglio espressi di un pino. Già che protesasi verso l'alto come un altissimo tronco si allargava poi a guisa di rami. Perché ritengo sollevata dapprima sul nascere da una corrente d'aria e poi abbandonata a se stessa per il cessare di quella o cedendo al proprio peso si allargava pigramente. A tratti bianca, a tratti sporca e chiazzata, a cagione del terriccio o della cenere che trasportava. La persona erudita qual era gli parve che quel fenomeno dovesse essere osservato meglio e più da vicino. Ordina che si prepari un battello liburnico. Mi permette, se lo voglio, di andare con lui. Gli rispondo che preferisco rimanere a studiare, anzi per avventura lui stesso mi aveva assegnato un compito. Stava uscendo di casa quando riceve un biglietto di rettina, moglie di casco, spaventata dal pericolo che la minacciava, già che la sua villa era ai piedi del monte e non vi era altro scampo che per nave supplicava di essere strappata da una così terribile situazione. Lo zio cambiò i propri piani e ciò che aveva intrapreso per amor di scienza condusse a termine per spirito di dovere. Mette in mare le quadriremi e si imbarca lui stesso per recare aiuto non solo a rettina ma a molti altri, giacché per l'amenità del lido la zona era molto abitata. Si affretta là donde gli altri fuggono. Va diritto, rivolto il timone verso il luogo del pericolo, così privo di paura, da dettare e descrivere ogni fenomeno di quel terribile flagello, ogni aspetto come si presenta ai suoi occhi. Già la cenere cadeva sulle navi, tanto più calda e densa quanto più si approssimava. Già della pomice e anche dei ciotoli cotti e frantumati dal fuoco, poi ecco un inatteso bassofondo e la spiaggia ostruita da massi proiettati dal monte. Esita un momento se doveva rientrare ma poi al pilota che lo esorta a far ciò esclama la fortuna aiuta gli audaci, punta verso Pomponiano. Questi era a Stabia, dall'altra parte del golfo, giacché Ivi il mare si addentra seguendo la riva che va via via disegnando una curva. Quivi Pomponiano, benché il pericolo non fosse prossimo, ma alle viste però e col crescere potendo farsi imminente, aveva trasportato le sue cose su alcune navi, deciso a fuggire se il vento contrario si fosse quietato. Ma questo era del tutto favorevole a mio zio, che arriva, abbraccia l'amico trepidante, lo rincuora, lo conforta e per calmare la palura di lui con la propria sicurezza vuole essere portato al bagno. Lavatosi, cena tutto allegro. Oh, ciò che è ancor più fingendo allegria. Frattanto dal monte Vesuvio in parecchi punti risplendevano larghissime fiamme e vasti incendi, il cui chiarore e la cui luce erano resi più vivi dalle tenebre notturne. Lo zio andava dicendo, per calmare le paure, esser case che bruciavano abbandonate e lasciate deserte dalla fuga dei contadini. Poi si recò a riposare e dormì di un autentico sonno, giacché la sua respirazione, resa più pesante e rumorosa dalla vasta corporatura, fu udita da coloro che passavano accanto alla soglia. Ma il livello del cortile attraverso il quale si accedeva a quell'appartamento si era già talmente alzato, perché ricoperto dalla cenere mista alla pilli, che se egli si fosse più a lungo indugiato nella camera non avrebbe potuto più uscirne. Svegliato ne esce e raggiunge Pomponiano e gli altri, che non avevano chiuso occhio. Si consultano fra loro se debbano rimanere il luogo coperto o uscire all'aperto. Infatti, continue e prolungate scosse telluri che scuotevano l'abitazione e quasi l'avessero strappata dalle fondamenta, sembrava che ora sbandasse da una parte, ora dall'altra, per poi riassestarsi. D'altra parte, all'aperto si temeva la pioggia dei lapilli, per quanto leggeri e porosi. Tuttavia, confrontati i pericoli, egli scelse di uscire all'aperto. Ma se in lui prevalse ragione a ragione, negli altri timore a timore. Messi dei guanciali sulla testa, li assicurano con lenzuoli. Fu questo il loro riparo contro quella pioggia. Già faceva giorno ovunque, ma colà regnava una notte più scura e fonda di ogni altra, ancorché mitigata da molti fuochi e varie luci. Egli volle uscire sulla spiaggia e veder da vicino se fosse possibile mettersi in mare, ma questo era ancora agitato e impraticabile. Quivi riposando sopra un lenzuolo disteso, chiese e richiese dell'acqua fresca e la beve avidamente. Ma poi le fiamme e il puzzo di zolfo che le annunciava mettono in fuga taluni e riscuotono lo zio. Sostenuto da due schiavi si alzò in piedi, ma subito ricadde. Perché, io suppongo, l'aria espessita dalla cenere aveva ostruita la respirazione e bloccata la trachea che egli aveva per natura delicata e stretta e frequentemente infiammata. Quando ritornò il giorno, il terzo, dopo quello che aveva visto per ultimo, il suo corpo fu trovato intatto e illeso, coperto dei panni che aveva indosso, l'aspetto più simile a un uomo che dorme che a un morto. frattanto, a Miseno, io e la mamma… ma ciò non importa alla storia e tu non volevi conoscere altro che il racconto della sua morte. Faccio dunque punto. Una cosa sola voglio aggiungere. Ti ho esposto tutto ciò cui assistetti o che seppi subito quando i ricordi sono più veritieri. Tu cavane ciò che più importa. Altra cosa, infatti, una lettera, altra una storia. Altra cosa scrivere per un amico, altra per il pubblico. Addio.